Trent Face con Leonardo è un canale dedicato di intrattenimento che offre dei contenuti gratuiti dal gossip, dei beat, fa notizie sportive, notizie di attualità e tanto altro Per vedere tutte le notizie di attualità e per debolezzi sui video visitate il nostro canale YouTube e il nostro blog per ulteriori contenuti Siamo anche su TikTok e Twitter Vi ringrazio in anticipo per aver visitato il nostro canale YouTube Per cortesia iscrivervi al nostro canale YouTube A mettere mi piace e a condividere i nostri video Cliccate sul pulsante di notifica per essere avvisati dei nostri nuovi video Grazie